Se si fa una proposta a Cipitarecchia e Cipitarecchia non fa nulla, non bisogna avere paura del procuratore perché c'è un'altra proposta che controlla Cipitarecchia, che è pericolosa, altrimenti diventa una nuova intera. Se noi abbiamo scritto alla Corte dei Conti per il sindaco, l'ex sindaco di Tivoli, non ha dato niente per l'ufficio, abbiamo scritto all'ufficio superiori. Il pericolo è un potere di controllo diretto perché questo potere è una pertinenza delle istituzioni nazionali e ovviamente locali. Però io in premessa ho detto che fino a quando, o meglio, secondo me, inizialmente, anche qui, è una mia opinione personale, appunto, quindi non è un giudizio, però io mi sono fatta l'idea che la scelta di Cubinoro fosse perché Cubinoro era fuori da Roma. Quindi, chiaramente, a Roma c'era l'opinione pubblica, i giornali che erano molto attenti, si creavano subito manifestazioni con 20.000 persone, c'erano tutta una serie di problemi che rincrociavano e allora l'idea, secondo me, magari in baglio, era di spostare l'attenzione sulla provincia pensando, noi scegliamo una situazione più debilata come Cubinoro, alla fine riusciremo, secondo me, a farla tranquilla. Cosa è di successo, però, che chiaramente si sono infattati con una realtà che si è rivoltata, no? Fini, bracciano, anche i servetti, eccetera. Poi, grazie, devo dire se posso, anche a tutti voi, però, insomma, Armando ci ha messo del suo, questa vicenda è stata una vicenda internazionale, quindi la Commissione ha visto, ha visto, perché io ho fatto una relazione puntuale, ha visto che cosa c'era a Cubinoro, e per me è stato inimmaginabile quello che ho visto a Cubinoro, perché io avevo il pensiero anch'io che fosse una struttura moderna o comunque abbastanza semplice, invece era purtroppo una situazione, voglio dire, fuori controllo. Bene, quindi, a questo punto, la Commissione europea è informata, che questo che cosa vuol dire? vuol dire che le autorità italiane, se fino a questo momento hanno potuto andare avanti, come dire, in una maniera un pochino leggera, in alcune, lenti, pochi equivoci, situazioni non perfettamente trasparenti, cittadini non perfettamente informati, coinvolti, eccetera, a questo punto non lo può più fare, perché conosce la realtà del territorio, di tutto il territorio, in particolare del Lazio. Quindi, secondo me, c'è una specie di potere deterrente, cioè la Commissione non può intervenire direttamente, ma la Commissione è considerabile di quello che sta avvenendo. Quindi, comunque, la Regione Lazio, il Comune di Roma, innanzitutto, e lo Stato italiano, devono dare delle risposte, non possono più fare pinta che tutto va bene, perché ormai lo sanno tutti, anche a livello di Commissione europea, che le cose non vanno bene, c'è la procedura di infrazione. Diciamo che, per quanto mi riguarda, io procedo ad aggiornare, praticamente, giorno per giorno, la Commissione è tutto quello che non va in provincia, nel Lazio, a Roma, in particolare, e quindi non possono più nascondersi dietro un dito. Pertanto, io non penso che ci saranno un punto in avanti, perché chi fa una punta in avanti in questo momento si mette nei guai, perché è sotto i riflettori generali. Quindi, non so se, diciamo, mi sono spiegata. Quindi, non ha un potere di controllo, però, alla fine, alla fine che ne l'ha, ecco. Alla fine, io ringrazio l'onore Angelo Sintri, Presidente del Parlamento europeo, voglio dire che da tante persone che parlano, fanno comunicati in stampa, lei ci mette la faccia, viene sempre qua e è presente. Ed è per questo che noi ringraziamo, che ringraziamo perché non è ci vedi la faccia, vieni qua, e ho la faccia io adesso, di chiederti una cosa. Noi siamo quasi difficoltanti, ecco perché, quindi noi facciamo denunce su denunce, però non riusciamo a fare mercellare la situazione di Bracciano, che è una situazione come c'è del sommerso, è forte il sommerso. E' da anni che ti perpetua. Il dottor Cimani diceva di dover venire a Bracciano, noi siamo due volte anche a Bracciano, perché il dottor Cimani abbia fatto numerose denunce a Bracciano, anche io ho fatto altre denunce, e in un altro anche indagato, perché ho detto a un procuratore che non faceva il suo lavoro, quindi questo procuratore mi ha indagato la roba, non è un problema. Quindi i problemi non ci sono. Però ecco, di darci una mano, lo sappiamo se ce la darai, e ti ringrazio sempre perché poi in un uomo si impedica per gli occhi e mi ha avuto da essere presente. Ripeto, da tante persone che fanno, fanno programmi, Roberta ci mette la faccia, è sempre qua e ci aiuta. Grazie Roberta. Grazie.